Ciao a tutti! Oggi prepareremo un'insalata di uova, patate e fagioline, cotte a vapore. Gli ingredienti, come vedete, sono molto semplici, perché ci sono le uova, le patate e i fagiolini. Utilizzeremo una cottura a multilivello, per cui vedrete che tutto insieme verrà cucinato contemporaneamente. Andiamo a mettere nel boccale l'acqua. Inseriamo all'interno del boccale il cestello. Chiudiamo con il coperchio. Andiamo a chiudere anche il vassone del Roma. Lo posizioniamo qui su. Andiamo a chiudere con il coperchio. Andiamo a cucinare per 35 minuti. Varoma. Velocità 2. L'insalata è pronta. Adesso andremo a impiattare. Insalata di uova, patate e fagiolini. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.